Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, è un video a cui tengo tantissimo perché collaboro con la Retro. Se non la conoscete ancora, che dubito, vi lascio il link qua sotto e vi consiglio di andare spedite sul suo canale perché è un canale meraviglioso. Lei è una persona meravigliosa, è simpatica, è bellissima, è piena di energie, piena di idee che io condivido molto perché ha un gusto veramente molto ricercato e particolare. Quindi è veramente un piacere ed è proprio un piacere poi ascoltarla mentre parla nei suoi video perché è veramente una persona appunto molto molto piacevole, ne sa un sacco in generale. Di lei avevo parlato in un video che avevo fatto dell'IKEA perché mi era venuto in mente che aveva fatto vedere delle cosine che aveva comprato all'IKEA che mi piacevano un sacco e quindi ve ne avevo forse già accennato un po'. E sono onoratissima di collaborare con lei per questo video perché ovviamente appunto l'adoro, è una ragazza fantastica, peccato essere dall'altra parte dell'Italia, se no mi avrebbe veramente fatto tanto tanto piacere conoscerla. E abbiamo deciso insieme di fare il video dei preferiti del mese, quindi partiamo subito, io ti ringrazio ancora Gloria, sono super super felice di collaborare con te. Allora iniziamo con la canzone del mese, si chiama Town Cold Malice e dei Day Jam e mi piace questa canzone da sempre ma in questo periodo sono proprio fissata perché è uscita una puntata di Walking Dead che aveva come corona a sembrare questa canzone e boh, ciao adesso chi me la toglie dalla testa. Mentre il film si chiama Man, Woman and Children e è un film che trovo molto attuale al periodo, parla dei social di tutto quello che diciamo ci portano anche a fare. C'è Adam Sandler che di solito fa video molto comici, nel senso poco seri ecco, invece a questo giro non è comico, è assolutamente un film serio ecco, che appunto, beh tiene evidenza quello che i social ci stanno un po' propinando, anche dove ci facilitano anche un po' le cose e a volte dove le distruggono, ci aiutano un po' a, insomma, evadere dalla nostra vita a volte in un modo poco sano. Lo consiglio perché è molto carino, non mi è dispiaciuto affatto come film. Poi l'accessorio del periodo, più che accessorio, accessori, è questo orologio che è il Casio, questo è un original degli anni Ottanta, comodissimo perché, vabbè, anche la calcolatrice, che non uso, però è comodissimo perché si vedono anche i secondi che vanno in questo momento dove in accademia sto facendo dei lavori, dove devo avere il tempo sotto mano, non posso tenere il cellulare, questo orologio è fantastico, poi è indistruttibile perché, ripeto, ci avrà 30 anni, quindi perfetto. E poi sono questi due anellini che vi avevo forse già fatto vedere e li avevo presi in un banchetto a Torino, ma tipo roba di 4 euro, se non sbaglio tutti e due, sono in acciaio, niente di prezioso, però sono fichissimi, a me piacciono un sacco i gioiellini così in acciaio. Poi passiamo al capotabigliamento preferito del periodo, assolutamente vince, questo mega maglioncione, questo 10NM, e lo trovate a core negozio, secondo me, non mi ricordo quanto lo pagavo, penso sui 29, una cosa del genere, questo è una M, l'ho voluto prendere ancora bello abbondante ed è tipo super mega, iper caldo, iper comodo, si può abbinare a qualsiasi cosa, mi piace tantissimo con gli skinni neri e i Dr. Martis, tipo sotto, se non che con un vestitone di quelli di lana, magari bello stretto a coste, con questo maglioncione sopra largo, che fa un po' contrasto, insomma lo trovo versatile e soprattutto molto molto caldo. Poi le scarpe del periodo, allora non sono i Dr. Martis perché pur essendo stupende, mi piacevano da morire, sono scomodissime, purtroppo io, cioè queste che ho comprato nuove un paio d'anni fa, sono ancora comunque belle dure, quindi oltre a pesare mi scardinano un po' dietro il tallone, la caviglia, ecco, quindi insomma tenerle tutto il giorno sarebbe un suicidio e allora ho trovato delle fantastiche sostitute che sono queste scarpe qua, queste le ho prese da pittarusso, se non sbaglio, sì, e queste sono le Cuper, mi sono molto, mi sono molto di English perché dentro hanno la fodera scozzese, è fichissima, e poi sono super resistente alla pioggia, le ho usate anche in questi giorni, oggi per fortuna c'è il sole, ma in questi giorni abbiamo rischiato un'alluvione, quindi ha piovuto abbastanza e queste sono state fantastiche perché sennò si era andata a bagno e non si direbbe, ma non so se per questa fodera un po' flanella, ma sono caldissime. Poi un acquisto che in questo periodo mi è particolarmente piaciuto e secondo me è stato veramente molto funzionale, è stato questo capo di abbigliamento qua, allora, aspettate che si capisce quella cosa, sì, è una felpona, maglioncione, pelosona, questa è proprio da montagna, perché all'accademia non funzionano i termosifoni, o almeno nelle sale sotto, nei laboratori, dove siamo, nelle aure da disegno, di anatomia, queste cose qua, e il scaldamento non funziona, e quindi se vuole di freddo, perciò sono dovuta correre ai ripari, sono andata in un negozio dove vendevano articoli sportivi da montagna e mi sono presa questa robina qua, che è tipo fantastica, mai più senza proprio, questa qui è meravigliosa, addirittura si potrà abusare nelle giornate, magari poco fredde, come proprio giacca da tenere sopra, perché è stupenda, la cosa è tipo avere un orso sulle spalle addosso, se vi interessa che qualcuno ha, nel senso, un problema, della Active Sport Team, AST, addirittura dentro ha le culisse, quindi potete anche stringere il fondo, che non è il caso, perché comunque è molto fittata, non rimane grossa, rimane abbastanza asciutta addosso, quindi anche come a livello estetico, diciamo che ci siamo. Poi il prodotto in generale preferito del momento è assolutamente questo sketchbook della Tiger, lo riconoscerete tutti sicuramente, anche se non l'avete preso da Tiger, ci siete andate tutte sicuro, e perché? Ha dei fogli veramente belli spessi, con una texture fantastica per disegnare, sono fenomenali, e con 3 euro avete un bel bloccone, sono fogli A4, fichissimi, idem, ne ho preso un altro anche, questo non ho qua, con la bianco, con la spirale sopra, che è i fogli forse ancora più spessi, consigliatissimi se vi servono per disegnare, o che hanno una qualità veramente altissima. Poi lo smalto del periodo, allora ce ne sono un po' di smalti, allora quelli colorati sono questi due, OPI e Kiko, che mi avete chiesto in tutti i video dove lo indossavo che smalto avevo, se vi interessa questo della Kiko è il 226, e questo dell'OPI Lincoln Park After Dark, sono uno, è un nero con un sottotono melanzana, e questo è proprio un bordo bello, scuro scuro, sono fichissimi tutti e due, e per il periodo sono ovviamente indicatissimi, e poi l'altro questo qua, che sarebbe il trattamento indurente per unghie fragili, che è quello che ho su adesso, è semplicemente un trasparente, perché questi smalti scuri danneggiano molto di più l'unghia, e quindi ogni tanto devo farle respirare, se no le unghie c'è proprio ciaone, se ne vanno via da sole, mi lasciano. Poi il bocciato invece del periodo è purtroppo questo eyebrow gel della Essence, che è terrificante, è inutile più che altro, infatti non l'ho usato tantissimo, non serve a niente, rimane trasparente, colora pressoché niente, quindi è inutile, non si può usare per nulla, a meno che voi non avete già le sopracciglia belle piene, volete solo, insomma, darne un po' più di colore in generale, ma se no, altrimenti non compratelo. Poi la cover del periodo è questa pacchianata qua, è fantastica, ha questa specie di gommina, un po' vellutosa, non so, a me la texture delle cose in generale mi colpisce abbastanza, è di questo bello rosa sciocchi, e ha queste borchette finissime, delicate, e quindi è anche utile se volete usarlo per cacciare i borseggiatori in giro. Come libro sono molto contenta di parlarvene, è questo qua, che è la piccola libreria di New York, che sto leggendo a spezzoni, proprio me lo sto tenendo, come quando avete tipo un piatto preferito davanti, che lo degustate piano piano. Ecco, io con questo sto facendo la stessa identica cosa. Sono arrivata a pagina 295, e me ne mancano meno di 100, quindi sto proprio andando piano piano, perché non lo voglio finire, cioè lo voglio finire perché sono curiosa, ma non lo voglio finire perché è difficilissimo trovare dei libri che mi prendano tanto, e questo qua mi sta piacendo molto, innanzitutto perché mi è andato a New York, poi la piccola libreria, ve l'immagino già, parla di questa ragazza che è di origini inglesi, che appunto si è trasferita a New York già da tanto tempo, e diciamo si incrociano le vite di lei e di un altro ragazzo, quindi è molto, secondo me, anche romantico, se vogliamo, però non stucchevole, non di quelli mieluosi, e sono dei racconti di vita, ecco, diciamo così, che mettono sicuramente al centro della produzione i rapporti interpersonali e New York, quindi un binomio veramente perfetto. Poi come app del periodo c'è sicuramente Clue, penso si pronunci, che è quest'app qua che vi parla praticamente, cioè vi parla, non è che vi parla, vi aiuta a tenere il monitoraggio del vostro ciclo, e semplicemente perché io ho la memoria di un pesce rosso, non mi ricordo assolutamente, figuriamoci se mi ricordo da un mese all'altro, cioè no, non esiste. Quindi in quest'app, per esempio, vado a vedere, ah ok, sì, è vero, che tra qualche giorno ci siamo, e anzi ti manda anche volendo delle notifiche dove fa proprio presente che sta arrivando il ciclo, che sta arrivando il periodo fertile, potete scegliere tutte le notifiche che volete, e questo lo trovo molto comodo per le smemorate come me. Allora, come oggetto random, non so se ci rientra perfettamente, ma volevo parlarvi di queste salviette della Primark, che mi hanno stupita, perché le vendevano in pacchi di due, e costavano tipo un euro, quindi pensavo fossero già una ciofeca senza senso, in realtà non sono meno valide di salviette che ho pagato 4-5 euro al supermercato, una confezione però, quindi se andate da Primark, vi consiglio di provarle, io ho preso queste rosa che sono quelle per pelli sensibili, e devo dire che ovvio, non è che sono le migliori in assoluto, no, ma sono molto buone per soprattutto il prezzo. Poi come categoria random vorrei parlare dei profumi, perché in questo periodo sono in fissa con questo, e lo trovo interessante da dirvi, che è la copia spiaccicata di Narciso Rodriguez, buonissimo, uso solo questo in questo periodo, a volte l'odio, a volte invece diventa il mio preferito, così, proprio così come me, e se vi interessa, questo qua si chiama Federico Manora Parfum, non è che è praticamente un profumo che ho acquistato su FM Group, che se conoscete, sapete che loro imitano i profumi famosi, e questo qui è uguale a Narciso, quindi se vi interessa, costa molto meno, io ve lo consiglio. Poi come novità cosa c'è? Allora, c'è che ho aperto un'altra pagina Instagram, perché? Perché mi sto un attimo prendendo bene, leggermente, con le grafiche baby. Vi lascio magari qualche esempio. Mi piacciono un sacco, non avrei mai detto, in realtà ho iniziato per scherzo, per delle mie amiche che, insomma, hanno avuto dei bimbi, e quindi ho cominciato a fare bigliettini, quadretti, cose del genere, e mi sono presa benissimo, e quindi ho continuato un po', e sto continuando. Se avete voglia di passare a dare un'occhiata, la pagina vi lascio qui il nome, e niente, commissiono anche su ordinazione, e non penso che mi fermerò solamente qui, alle grafiche per appunto baby, ma penso che svilupperò anche in generale, a livello di grafica, di quadretto, perché mi piace molto come idea, di avere un quadretto con una stampa fatta a mano, anche l'idea di regalare un qualche cosa, un oggetto in made, un quadretto in made, e lo trovo molto carina, lo trovo un'idea deliziosa, soprattutto ribaluta anche un po' quella che è l'unicità del pezzo, che ormai con le grandi catene si è un po' persa. Quindi, il video finisce qua. Io mando tipo una vagonata, vagonata di baci a Gloria, perché sei meravigliosa, e sono contentissima di aver fatto questo video in collaborazione con te. Mando milioni di baci, ovviamente anche a voi, grazie mille per aver visto questo video, e se vi va, ci vediamo al prossimo. Ciao! 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 Grazie a tutti.